ciao a tutti allora oggi vi mostro il piccolo shopping che ho fatto con i saldi da chiabì allora per ogni cosa la borsa la mettiamo qui ho tenuto il prezzo così vi mostro tutto allora partiamo con una maglia che come l'altra non ci penso nemmeno a indossare adesso perché è anche questa in maglina col collo alto e le maniche lunghe questa qui questa costava 10 euro ma l'ho pagata 3 e io in inverno queste le uso tantissimo poi dopo altre cose che non provo perché mi avete già visto indosso ricordate quella maglia fatta così con le maniche ricciate tre quarti ecco l'ho presa penso in tutti i colori che c'erano disponibili quindi sempre la m questa qua è in bianco con i qua questa costava 10 l'ho pagata 2 e 0 4 poi dopo l'ho presa in nero a qua anche queste io ho appena finito agosto sono quelle che indosso di più da tutto settembre quindi mi sembrava un buon prezzo nera a qua sempre con il taschino e sempre con le manichine e col bottoncino questa da 10 l'ho pagata 3 euro e 40 e poi dopo l'ultima è questa che è un blu scuro non è a qua ma è a righine ed è anche questa è carina sempre fatta uguale comunque da 10 euro l'ho pagata 3 euro e 40 poi dopo vediamo un po questa ve la mostro questa ve la mostro ok ho preso per il periodo un attimo più estivo queste si dice canotte top e sola senza maniche bella lunga bella sciancata e l'ho presa sia in questo colore verde verde cacchi che era in offerta invece di 6 euro l'ho pagata 2 e 0 4 e poi l'ho presa anche in blu così e questa da 6 euro l'ho pagata 4 adesso queste qua ve ne mostro una perché sono molto più carine viste indossate che è così così ve la mostro eccoci allora alla fine ho indossato questa cacchi vedete che è carina ha gli spacchettini laterali ed è al collo fatto così ed è carina perché è smanicata a me piace e poi comunque c'è anche la stessa cosa in celeste era qualcosa di diverso poi vi mostro finché sono qui così così e vi faccio vedere anche questa questa qui che è carinissima allora questa qui da 8 euro l'ho pagata 4 quindi ascoltate le 5 alta ed è carina per il fatto adesso comunque ve la mostro che ha questi piccoli dettagli in pizzo ve la mostro eccoci allora i dettagli sono carini perché sono questi qua laterali spacchettini ok e poi dopo ha il pizzetto un po' sullo scollo allora questa qui vi vedete questa qui mi sta abbastanza larga e io ho preso la S quindi normalmente eccoci che forse è meglio questa qua va guardata molto come taglia perché fa molto oversize guardate che è così e io ho preso la S normalmente io di queste maglie indosso la M quindi poi ultima cosa questa era carina c'erano in altri colori ma era in super saldo solo questa poi unica cosa che non ho preso con i saldi e ve la mostro è per brontolo allora mi è piaciuta mi è piaciuta dovuto prenderla è questa maglietta qui è una classica t-shirt però è carina intanto perché è della Mickey Mouse originale e poi perché ha il dettaglio sul taschino del topolino arrabbiato e brontolo era proprio sua e questa l'ho pagata a 10 euro questa qui è una M lui indossa la M e 10 euro mi sembra che Disney originale fosse carina ed è l'unica cosa che non ho acquistato con i saldi allora questo era tutto lo shopping che ho fatto con i saldi un po' con le promozioni un po' con c'è anche un'offerta con gli ultimi saldi un 3x2 sui saldi quindi c'è da guardare davvero bene ma sono cose davvero interessanti allora fatemi sapere se questo tipo di video vi è piaciuto se vi è piaciuto il mio piccolo shopping condividete il video con una vostra amica che ama i saldi e perché no lo costa se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao